Prima di 40 minuti buoni, poi è arrivato il gol e Alassio nel secondo tempo ha sofferto tanto. È come se basta un errore, basta prendere un gol e mentalmente succede qualcosa. Ho visto una sofferenza contro l'Apollon, forse si potrebbe aiutare. Sì, sicuramente, ma non sottovalutiamo l'Apollon, perché è una squadra che ha vinto anche in Polonia, che non ha perso malamente contro quelli che hanno vinto tutti quanti contro i turchi. Allora noi stasera abbiamo avuto tutto da perdere, poco da bagnare. D'altra parte non ho visto la squadra che ha giocato in solo 40 minuti. Un po' così in più, perché due occasioni nel secondo tempo che abbiamo avuto potevano lasciare i tempi che trovano. Dopo, un po' paura di vincere verso il fine, un po' confusione perché non abbiamo ottenuto la palla in una maniera tranquilla, abbiamo pagato che avversario ha avuto queste due occasioni, ma tutto insomma a largo dovevamo vincere con un stato più alto. insieme al passaggio, perché è tornato a 4-2-3-1? Nel senso, la squadra a me sembra che non riesca molto a reggere tatticamente il pressing così costante come vuole lei, che sarebbe anche giusto se mentalmente e fisicamente la squadra stesse bene. Io ho la sensazione che, forse in questo momento, visto che la squadra è un po' spaventata, non è al massimo, ma credo che una discussione tattica più compatta sia un po' più opportuna in questo momento. Questa volta, quando lei parla a un attore, forse metterà la squadra. Anche stasera ho sbagliato, ma per fortuna abbiamo vinto. Quanto abbiamo giocato, quanto abbiamo creato con questo sistema che abbiamo fatto, se vogliamo essere un po' positivi, possiamo alloggiare la squadra, possiamo dire anche che un conco, un rado di settimana scorsa si hanno messo a disposizione, devo ringraziare questi giocatori anche non al 100%, anche con le punture eccetera, hanno giocato le partite. Guardiamo tutto un po' positivo e anche in Europa non penso che Lazio tutti gli anni faceva stravincere tutti i gironi e partite. Noi siamo a un buon punto anche ad andare avanti, prendiamo questo come buono, dobbiamo migliorare, sappiamo, tutti quanti e dobbiamo soprattutto crescere sul piano mentale, sul piano di essere più civici in tutti i sensi, difensivo e offensivo. Facciamo una traduzione? Sì, insomma, via Sultino. Sì, insomma. Sì, insomma. Sì, insomma. Sì, insomma, insomma. Oggi, dopo aver tempo a passo è una scena, dove non ho avanti. Sì, other hand eravamo, one than we haveDoC, pensato al posto e, per esempio, noi abbiamo bisogno. I termini suci. Poi escivano una scena, in un punto il rischio, e poi avevamo tutti i sueri, e che abbiamo notato la scena, e poi avevamo una scena, come in una scena, e vorrei un poesci. Co in fifteenina parte… есcena è una scena… E poi abbiamo una scena, per la scena… E poi abbiamo una scena… Sì, certo iri ris números, è una scena. Grazie a tutti. questa squadra secondo lei per tanto Domenico è una squadra pensiamo più forte della Polo è pronta per un colpo di trasferta perché manca magari una vittoria anche importante in campionato per dare fiducia è pronta secondo lei? ma deve essere sicuramente ci tocca anche di fare questo tabù che abbiamo fuori casa Maurizio ci serve questo cosa ho parlato prima ci vuole credere di più limitare errori sia di costruzione che anche davanti alla porta e essere presenti per 90 minuti e tenteranno tutto per tutto fare questo contro Parma perché sappiamo che punti contro Parma sono molto importanti e dobbiamo fare una gara perfetta per portare a casa i punti facciamo prima l'onuzione se arriva 3 a 0 o all'inizio della ripresa 4 a 1 nessuno ha avuto il giro come è possibile che dava una situazione così positiva poi si vada in sotterezza per un errore sottoporta che dava avrebbe chiuso la partita cioè questo come questo da che cosa dipende? dipende da noi ma dipende anche da avversario da noi che cominciamo a avere i dubbi cominciamo a avere paura di vincere la partita e lì cominciano lo sbagli e lì dai anche una spinta all'avversario che deve e che può credere di più e spesso è stato anche stasera perché se abbiamo segnato i momenti giusti e dato questi errori sicuramente si andava verso fine più solo è stato un po' se ha visto qualche segnale di risveglio nella sua Lazio e se personalmente lei è più sereno alla luce di questa vittoria. Grazie. Vittoria sicuramente fa bene a tutti quanti, serenità della squadra non dipende solo dal risultato, dipende di continuità, di fare anche risultati in continuità e fare anche minuti in continuità e noi purtroppo abbiamo fatto sessantina di minuti abbastanza bene, abbastanza convincente ma partite durano 90 minuti e non dobbiamo concedere all'avversario come ho detto prima buon avversario perché questo non è una squadra così debole come pensiamo tutti noi o pensavamo tutti noi ma è una squadra che si deve dare il rispetto e sicuramente dobbiamo fare tesoro di positività nei primi 60 minuti e dopo dobbiamo analizzare bene questi ultimi 30 minuti perché più tranquillità, più personalità, prendere anche il gioco e la squadra in mano perché abbiamo i giocatori che valgono di questa esperienza e anche da giocatori Torniamo dal mister. Volevo sapere, mister, quanto può essere importante una serata così, una prestazione così per la crescita di Keita, che nel primo tempo ha fatto due alzis e è stato veramente il migliore volentieri insieme a Frogger. Quanto può aiutare anche a crescere con sicurezza, con consapevolezza? Keita deve aiutare ogni andamento, lavorando con altri ragazzi su un ritmo più alto sicuramente dà ancora più consapevolezza che può fare bene, stasera ha dimostrato anche questo, deve avere ancora più continuità e su certi livelli ci serve ancora più lavoro quando noi non siamo in possesso di palla perché lui con la palla è ottimo, deve essere ancora più cinico e più attaccante per cercare anche la porta ma in modo generale ottima partita stasera ma deve crescere, deve imparare da tutti quanti compagni ma anche lui da solo deve vedere le cose che non vanno, che deve aumentare sempre di più il ritmo con e senza il pallone e può diventare un giocatore importante. Industry ai sono ascoltino. Non è un' borde che stagglie.. E lo v'altro, è un' corso quello che faz il risultato. Certo, dev'altro? Il risultato, è una distanza più grande questa marge, è una distanza più grande. Sì, io, overso che ne ha fatto bene? Il risultato, è un'az Suree che si è giusto… Il risultato, è un risultato, è un'azutista più grande, è un'azutista più grande, il risultato, è di aver nascosto che nonostante che la sede e ho fatta anche la matcha dei olivari, scoglie… Come ha giudicato i palleggi che hanno fatto i suoi giocatori negli ultimi minuti per mantenere il risultato? No, questo era il problema negli ultimi minuti. Abbiamo fatto il palleggio...